Finché non si comincerà a sparare sarà sempre peggio, è una faccina rossa per la rabbia. E questa è la frase che sta sollevando l'ennesimo polverone mediatico in una Voghera ancora cecata dalle luci della ribalta internazionale in cui è stata proiettata dall'omicidio di Piazza Meardi, una mattina di fine luglio. A scrivere questa frase in una chat privata della Giunta, l'assessore ai lavori pubblici di Voghera Giancarlo Gabba, erroneamente indicato da diverse testate come il successore di Adriatici per la delega, la sicurezza andata invece a William Tura con l'ultimo rimpasto. Ma si diceva la chat incriminata, la frase di Gabba era giunta un mese circa prima dei fatti di Piazza Meardi, in risposta ad un'osservazione del vice sindaco Simona Virgilio che parlava di un assembramento di extracomunitari all'esterno di un negozio etnico di Voghera. Dopo la butad di Gabba, il sindaco Paolo Garlaschelli sorvola sulle gravi parole del collega, limitandosi a chiedere se non fossero disponibili agenti della polizia locale da inviare sul posto, dove a quanto pare non stava accadendo nulla, tranne forse un po' di affollamento. Il colpo di Piazza Meardi, uscito dalla pistola dell'assessore alla sicurezza Massimo Adriatici, arriverà da lì a un mese, sì e no. Ma chi ha diffuso questo messaggio dall'interno? Non si sa, lo screenshot incriminato è comparso mercoledì sera in un post della pagina Facebook Politica e partecipazione, è presto cancellato. A pubblicarlo uno degli amministratori di questa pagina, Giampiero Santamaria. Mi è arrivata su Messenger questo screenshot e io non potevo non pubblicarlo. Conscio delle ripercussioni che si possono essere da ogni punto di vista legale o di opportunità. però era troppo grossa, è troppo incredibile quello che abbiamo letto. Questo screenshot lei non ha idea da dove possa essere arrivato? Sicuramente è fuoco amico, è come capita spesso all'interno della maggioranza, c'è una parte di scontenti, c'è stato un rimpasto in giunta, quando c'è un rimpasto in giunta ci sono contenti e scontenti. Ho deciso però di rimuovere questo screenshot. Purtroppo ci sono arrivate minacce, messaggi anche abbastanza rancorosi. La vicenda che non fa che esacerbare un clima di tensione già alle stelle da mesi ha suscitato l'ennesima bufera e una valanga di commenti e prese di posizione. Secondo il senatore democratico Alan Ferrari, la giunta leghista di Voghera è fuori controllo e pericolosa per la comunità. Riteniamo, ha spiegato, che siano sempre più doverose e necessarie le dimissioni della sindaca di Voghera. Altri commenti al vetriolo con annesse richieste di dimissioni sono giunti da vari esponenti del centro-sinistra e del Movimento 5 Stelle. Con il consigliere regionale Simone Verni, che parla di continue umiliazioni per la città di Voghera e di becera propaganda leghista. Dal canto suo il sindaco Paolo Agarlaschelli ha spiegato che il comune ha incaricato un legale per valutare gli aspetti giuridici della vicenda. In questo momento, ha spiegato, il mio pensiero va alla città e al lavoro che stiamo compiendo nonostante sia stato un primo anno complesso, ammette, durante il quale l'efficienza della struttura amministrativa è stata messa a dura prova e limitata dall'emergenza sanitaria e dalle misure da esse discendenti l'entusiasmo e l'impegno rimangono immutati, spiega Garraschelli. Sto collaborando con i nuovi assessori per agevolare il loro inserimento in giunta e per realizzare il programma elettorale. Sulle frasi pronunciate dal suo assessore, nemmeno una parola.